Una squadra che deve sudare, una squadra che deve lavorare e pensare che c'è un obiettivo da raggiungere, quindi quando c'è un obiettivo importante da raggiungere bisogna fare dei grossi sacrifici. Così il train del Barletta 1922 è una compagine, quella bianco-rossa che dopo innesti e saluti si allena per trovare compattezza e forma fisica. Presso lo stadio Manzi Chiappolin, venti gli elementi a disposizione di mister Lacava per sostenere il primo allenamento della prossima stagione calcistica, prima fase casalinga, poi la partenza per il ritiro precampionato a Fara San Martino. A guidare il gruppo, l'esperienza e la qualità del difensore centrale di Giorgio e della punta argentina Nicolas Di Rito. Un intenso lavoro, quello programmato, finalizzato a traguardare importanti obiettivi sul rettangolo verde. Uno si deve aspettare il massimo dal prossimo campionato, è chiaro che sarà il campo a decidere se noi abbiamo dato il massimo o se abbiamo raggiunto il massimo obiettivo. È chiaro che le attese sono quelle di raggiungere il massimo obiettivo, credo che abbiamo tutte le qualità per poterlo fare e ci sono anche i presupposti per poterlo fare, visto che questa è una squadra costruita con intelligenza, sicuramente potrebbe mancare ancora qualche pedina, ma nel momento in cui ci rendiamo conto di questo ne parleremo società, allenatore, direttore sportivo e si cerca anche di vedere se c'è bisogno di qualche altra cosa. Però in questo momento siamo convinti di non aver sbagliato nulla, altrimenti non stavamo qui oggi a lavorare a pieno organico. Intanto il sodalizio di Via Veneto fa sapere che gli allenamenti in programma dal 25 al 30 luglio prossimo saranno sostenuti a porte chiusi accogliendo la richiesta dell'amministrazione comunale a causa dei prossimi interventi di restyling previsti per il Manzi Chiapolin. I tifosi potranno così incontrare la squadra pochi minuti prima di ogni seduta pomeridiana con inizio fissato alle ore 17. E' un barletta che continua a crescere. Da ultimo l'innesto di Saverio Pellecchia, nato ad Aversa, ha mosso i primi passi durante la stagione 2007-2008 indossando la casacca del cuoio a Cappiano. A seguire l'esperienza tra le fila del Melfi per 43 presenze e 12 reti della Neapolis, del Sora, del Brindisi ma anche del Martino e del Biceglie. Durante l'ultima stagione Pellecchia ha vestito la maglia del Giulianova, pedina esterna con il vizio del gol, quella che ora si unisce all'organico bianco-rosso che cresce e si rinforza.